Buonasera a tutti, noi siamo i Vintage Violence. Mi ricordo che eravamo piuttosto scassati. Questo progetto comunque è stato una costante nella vita alla fine. È stato un po' un destino. Voglio continuare con questo progetto fino a quando riuscirò a farlo. Non riesco a immaginarmi senza. Piccolo tramonto interiore Perché anche l'operaio vuole il figlio dottore Penso che alla fine ripaghi fare quello che cazzo vuoi fare tu. La musica è anche una mega medicina super naturale che fa benissimo agli esseri umani. Più è alla portata di tutti, meglio è. Punto. Come un chiodo ama il muro.